Qui Telepower, il processo del sabato sera. Flaiano, nell'amore di gruppo c'è il vantaggio che almeno uno può dormire. Renato, per avere una conversazione brillante in società non è necessario dire cose intelligenti, basta dire cose inutili. Io nesco, prendete un circolo, cocolatelo, diventerà vizioso. Pity Grilly, quando una donna ti dice sì risponde per se stessa, quando ti dice no sembra che risponda per tutte le donne dell'universo. Sempre Pity Grilly, i piaceri crudeli delle donne, se tu dici tu penserai che sono uno stupido, lei non risponde né sì né no. Jack Benny, il cannibale è colui che entra nel ristorante e ordina un cameriere prego. Oscar Wilde, solo non pagando i conti possiamo sperare di restare nel ricordo degli eredi. Sempre Oscar Wilde, si può ingannare uno tutte le volte, tutti qualche volta, ma non tutti tutte le volte. Woody Allen, prima di lasciarvi vorrei salutarvi con un messaggio positivo, ma non ce l'ho, vanno bene due messaggi negativi? Vanno benissimo, Oscar Wilde, pazzaglia, Dante Alighieri, no basta, basta!